Nino Bixio, l'eroe del Risorgimento Nino Bixio, all'anagrafe Gerolamo Bixio, è stato un rivoluzionario, generale e politico italiano, tra le più notte figure storiche legate al Risorgimento italiano. Nato a Genova il 2 ottobre 1821, Bixio proveniva da una famiglia borghese e fin da giovane si interessò di politica e di idee liberali. Nel 1848, allo scoppio della Prima Guerra di Indipendenza, Bixio si arruolò volontario nell'esercito sardo e partecipò alla Battaglia di Novara, dove fu ferito. Dopo la sconfitta di Novara, Bixio si rifugiò in Francia, dove entrò in contatto con i circoli mazziniani e si radicalizzò nelle sue idee patriottiche. Nel 1859, Bixio partecipò alla Seconda Guerra di Indipendenza come comandante di una brigata garibaldina. Si distinse in particolare nella Battaglia di Varese, dove contribuì a sconfiggere gli austriaci. Dopo l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, Bixio fu nominato generale dell'esercito sardo e partecipò alla campagna del 1860, che portò all'Unità d'Italia. Bixio fu uno dei protagonisti dell'impresa dei Mille, guidando la spedizione garibaldina che sbarcò a Marsala il 11 maggio 1860. Dopo la conquista del Sud Italia, Bixio fu nominato governatore di Sicilia e si occupò di riorganizzare l'amministrazione dell'isola. Nel 1861, Bixio fu eletto deputato al Parlamento italiano e si impegnò per la costruzione dello Stato unitario. Nel 1866, Bixio partecipò alla Terza Guerra di Indipendenza come comandante della Settima Divisione dell'Esercito Italiano. Si distinse in particolare nella Battaglia di Custoza, dove fu ferito e fatto prigioniero. Dopo la guerra, Bixio fu nominato senatore del Regno d'Italia e si dedicò alla politica attiva. Fu un sostenitore del governo di Agostino de Pretis e si impegnò per la riforma sociale e la modernizzazione del paese. Nino Bixio morì improvvisamente a Banda Ace, in Indonesia, il 16 dicembre 1873, all'età di soli 52 anni. La sua morte fu un lutto nazionale e Bixio fu ricordato come uno dei più grandi eroi del risorgimento italiano, la figura di Nino Bixio. Nino Bixio è una figura complessa e affascinante, che ha lasciato un segno profondo nella storia italiana. Bixio era un uomo di grande carisma e di forte personalità, un patriota convinto e un combattente coraggioso. Era anche un uomo di grande intelligenza e cultura, un politico visionario e un riformatore sociale. Bixio è stato un protagonista assoluto del risorgimento italiano. Ha partecipato a tutte le principali battaglie del risorgimento, distinguendosi per il suo coraggio e per la sua capacità di leadership. Bixio è stato anche un importante politico, che ha contribuito alla costruzione dello Stato unitario italiano. La figura di Nino Bixio è ancora oggi un simbolo di libertà e di democrazia. Bixio è un eroe nazionale che rappresenta i valori più alti della patria italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.